Ben ritrovati e ben ritrovati. La formazione è provata dopo la cosiddetta rifinitura per il match di oggi, fischio iniziali 18 contro il Lecce, ovviamente all'Allianz Stadium. Capiremo a gara in corso se sarà un tipico 3-5-2 o se magari sarà più 4-4-2, ma gli uomini testati sono questi. Scesne tra i pali, in difesa Bremer, Bonucci e Danilo. Sulle fasce a destra De Sciglio, a sinistra Kostic, a centrocampo Fagioli, Paredes e Miretti e la davanti Di Maria Blaovic. Non è stato convocato Adrienne Rabiot, nessun infortunio, semplicemente un turno di riposo per lui già spoilerato ieri in conferenza da Max Allegri. C'è Moise Ken, quindi diciamo che a livello proprio di calciatori disponibili e non infortunati, praticamente tutta la rosa a disposizione, eccezione fatta per il lungo degente Caio Giorgi, che ha trascorso tutta quest'annata per recuperare davvero da un gravissimo infortunio e penso che quest'estate poi, per trovare Minutaggio il trovo e per riaccendere la macchina, sia destinato ad andare via in prestito. Ma questa è un'altra storia che analizzeremo più avanti. Che dire, so che molti di voi magari si aspettavano che potesse giocare in junior e ci sta nella maniera più assoluta perché Kostic ha speso tanto. Infatti sono anche io un po' incuriosito da questa scelta, mi aspettavo che magari il serbo potesse riposare, però dalle indicazioni che ho rimediato proprio pochi istanti fa dovrebbe partire dall'inizio con l'inglese dalla panchina. Probabile sta affetta, verosimilmente, anche perché al netto degli errori barra orrori sottoporta che hanno proposto entrambi, mi riferisco a Injunior e a Mattias Sule, non dobbiamo dimenticarci che sono stati proprio questi due ragazzi a far cambiare marcia al Dallara. Non so onestamente se senza i loro ingressi la Juventus sarebbe stata in grado di pareggiare. Poi è andata addirittura, addirittura, è andata a rischiare di vincere la Juve, sfruttando anche la spensieratezza di questi giovani che hanno nulla da perdere, che hanno tanta voglia di dimostrare, che hanno anche un ottimo senso di appartenenza e non è un caso che anche a Bologna, come era già accaduto x volte durante la stagione, siano stati proprio i giovani a trainare la cosiddetta vecchia scuola. A proposito di vecchia scuola, Bonucci, altra presenza dall'inizio ravvicinata per lui, vediamo come si comporterà. D'altra parte le alternative erano gatti e rugani, ma sappiamo che Allegri quando deve far rifiutare qualcuno, esposta Bremer a destra, al centro punta sempre, quasi sempre, su Bonucci. E anche De Sciglio ha una bella possibilità, qua un quadrato deve rifiutare, non dimentichiamoci che poi dietro l'angolo c'è l'impegno dispendiosissimo di Bergamo contro l'Atalanta, poi ci sarà il match d'andata in Europa League in semifinale contro il Siviglia, ci sono tante partite, però ciò che conta alla fine della fiera è che oggi la Juventus torni a vincere, perché è un successo in campionato che manca da quattro turni, tre sconfitte di fila e un pareggio, la Juve non vince da inizio aprile in campionato quando va abbattuto tra le Muramica, il Verona, quindi c'è bisogno davvero di fare punti perché al di là di ciò che accadrà a livello di extracampo, la Juve in termini di classifica deve centrare l'obiettivo minimo, ovvero entrare tra le prime quattro, pur di che vedremo cosa accadrà. È stato molto chiaro il responsabile della red tecnica Francesco Calvo prima di Bonio a Juve, c'è un doppio obiettivo, classifica la mano essere tra le prime quattro al termine del campionato e provare ad arrivare in finale di Europa League. Altra grande chance per Paredes, credo che sul suo conto il destino sia ampiamente segnato, un giocatore che tornerà a Parigi ovviamente non verrà riscattato, però sarebbe bello che ci possano essere da parte sua dei segnali di risveglio, quantomeno di dignità calcistica, per non lasciare proprio un ricordo vuoto, perché onestamente anche qua rendimento alla mano, credo che Paredes sia stato uno dei centriampissi più deludenti della storia recente Juventina, per l'aspettativa e per gli apporti uguali proposti. Quindi vediamo, Dante è la difesa, farà rifiatare Locatelli e ne ha bisogno, e Loca ne ha bisogno perché ultimamente l'ho visto un po' appannato, ma fa parte di quei giocatori che hanno sempre dato tutto, al di là poi dei pro e contro a livello di bagaglio tecnico, ma è gente che davvero ha speso tanto, ha speso tanto e sta pagando un pochettino d'azio. Uno di questi è anche Danilo, Danilo a Bologna, secondo me in difesa, è il peggiore assieme ad Alessandro, probabilmente il connazionale Alessandro ancora peggio ha fatto di Danilo, però l'abbiamo visto appannato, è lui che fa rigore su Orsolini, è lui che sbaglia due o tre uscite, però questa è gente che davvero ha dato tutto, ha dato tutto, i momenti estremamente caotici, e quindi ci può anche stare che a livello fisiologico, non è che sia sempre al 100% in 12 mesi, e ora Borucci, Locatelli stanno pagando d'azio. Arriviamo al tema forte, l'attacco. Si rivede il fideo, evidentemente questo piccolo problemino è stato smaltito, guarda caso quando aveva capito, anzi, che non avrebbe giocato dall'inizio a Bologna, però acqua passata, ciò che conta è che oggi Di Maria faccia vedere di essere quello che è, un fuoriclasse, che aiuti la Juventus a riassaporare il gusto della vittoria in campionato. Blaovic! Innanzitutto c'è l'ospicio che possa cambiare le sorti del nostro fantacalcio, per noi che soprattutto in un fantasedici abbiamo puntato tutto su di lui. non segna da tantissime partite in campionato, ho perso anche il conto, purtroppo quotidianamente poi ci sono queste riflessioni tra l'investimento effettuato da oltre 80 milioni e le prospettive legate al futuro, perché molti si chiedono, ma eventualmente, se nella bruttissima ipotesi che la Juventus rimanesse fuori dalle coppe, o comunque non dovesse andare in Champions, cosa farebbe Blaovic? Si guarderebbe attorno? C'è il Real Madrid che prenderà un numero 9, il Bayern Monaco prenderà un numero 9, incredibilmente il Chelsea potrebbe prendere un numero 9 nonostante ne abbia 150.000, il Paris Saint-Germain, le prese tra il caso Messi, Neymar che potrebbe partire alla ricerca di un numero 9, insomma ci sono 4-5 top club a livello mondiale che chi più chi meno potrebbero mettere nella loro lista. Blaovic, magari non in tono prioritario, dopo questa stagione, ma resta un giocatore che innanzitutto ha un entourage che si sa muovere. E poi, un giocatore ancora che non ha fatto vedere tutto il suo potenziale minimamente alla Juventus, e altrove, secondo me, verrebbe visto come un investimento mirato e non come un azzardo. Vediamo, ciò che conta nell'immediato è Juventus-Lecce, e battere la formazione di Marco Baroni fa piacere che poi il tecnico toscano abbia ricordato ieri in conferenza il suo passato alla guida della primavera della Juve, ha detto che sono stato il primo a regalare un trofeo all'era Andrea Agnelli, ed è vero, tra l'altro le sue squadre giocavano molto bene, è un attore che con i giovani ci sa fare come, mi fa molto piacere che ora sia riuscito a consacrarsi in Serie A, perché Baroni anche in B ha fatto spesso e volentieri bene, però gli mancava sempre l'acuto in Serie A, e se dovesse salvare questo Lecce sarebbe un risultato straordinario da associare poi anche alla competenza del club su tutti. Il maestro Pantaleo Corvino che in tema di talenti se ne intende e come, e lo dimostra proprio in maniera nitida. Una brillantissima carriera, ricapitolando la formazione provata nella rifinitura prelecce in porta a Scesni, pacchetto a retretto formato da Bremer, Bonucci e Danilo a centrocampo De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti e Kosic e la davanti di Maria Komlaovic.